Infanzia e solidarietà sono le parole chiave con cui il comune di Bitritto ha scelto di inaugurare la rassegna Bitritto Estate 2020, il cartellone di eventi che animeranno le settimane più calde dell'anno nel nome della cultura, della musica e dell'arte. Sabato 1 agosto in Piazza Leone si è tenuto Narrabot, la festa dei bambini, un evento realizzato in collaborazione con Apletionlus, l'associazione pugliese per la lotta alle emopatie e ai tumori dell'infanzia per riproporre in chiave originale la festa del gelato che lo scorso anno aveva aglietato i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. L'evento, nato da un'idea di Patrizia Vitti con la collaborazione dell'attore teatrale barese Giacomo Di Mase, è stato accolto e ospitato dal comune di Bitritto per tutti i bambini del paese. Grazie ad uno spettacolo dedicato proprio all'infanzia e pensato per premiare i più piccoli che negli scorsi mesi hanno patito lo stop a tutte le attività scolastiche, sportive e ludico-creative. Abbiamo potuto realizzare questa seconda edizione del gelato che però quest'anno abbiamo chiamato festa dei bambini perché vede coinvolti anche tutti i bambini di Bitritto. In questo momento rilanciamo quella che è la nostra associazione, l'Apleti Onlus che in questo momento vista la situazione di emergenza ha delle priorità, insomma continuare ad avere sostegno dalle famiglie perché l'Apleti vive di donazioni. Sono state fatte delle mascherine dai nostri bimbi e tutti i genitori che vorranno potranno acquistare le mascherine e ci tengo a dire che ogni persona che collabora con noi lo fa a livello di volontariato. Farò uno spettacolo di narrazione, ovvero racconterò una storia, però mi sono detto come posso fare a rendere questa storia più interessante e più divertente per i bambini e quindi qualche mese fa mi è venuta in mente l'idea che io fossi un robot, quindi io sono collegato a un dispositivo che sarà sul palco e ogni tanto avrò proprio dei bug, tipo che vero, vero, voce e i bambini dovranno aggiustarmi oppure se la voce i bambini verranno ad alzarmi in volume, poi iniziare a parlare molto velocemente oppure molto lentamente e quindi uno spettacolo di narrazione sì ma interattivo. La festa ha avuto il patrocinio e il contributo del comune di Bitrito ed è stato pensato come un momento di festa all'insegna della narrazione, della creatività e della solidarietà. Abbiamo voluto iniziare proprio da un punto di vista, appunto volevamo dare un segnale forte e quindi partire all'insegna dell'infanzia e della solidarietà e siamo contenti di poterlo fare con Apleti, proprio perché Apleti rappresenta per noi quello che deve essere l'associazionismo, cioè quello di non lasciare nessuno indietro. Al termine dello spettacolo ad ogni bambino è stato distribuito un dono messo a disposizione da Apleti Onlus e dal comune di Bitrito e un ottimo gelato da parte dello storico carretto dal 1940 di Acquaviva delle Fonti. Era stato lo stesso carretto lo scorso anno, il protagonista della prima festa del gelato nel reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari per regalare un sorriso e un momento di dolcezza e di svago ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie.